Un'aggressione che fa male al corpo ma anche al cuore. Sono 30 i giorni di prognosi che i sanitari hanno dato a Fra Germano. Il frate questuante aggredito è rapinato proprio davanti a casa, al convento della Madonna di Montecengio. I carabinieri di Schio sono sulle tracce dei suoi aggressori che ancora non sono stati individuati. Due persone che lo hanno preso alle spalle con il volto coperto e che probabilmente conoscevano bene i suoi spostamenti, forse compaesani. Intanto tutta la comunità si è unita in preghiera per augurare una pronta guarigione al suo fratebuono.